Buongiorno da Meteo.it, tempo instabile sull'Italia per la presenza di questo vortice di bassa pressione che anche oggi porterà la formazione di numerosi rovesci temporali. L'instabilità tenderà ad accentuarsi nelle prossime ore, avremo dei rovesci che colpiranno soprattutto il nord est, le zone interne del centro, il sud, tempo migliore con prevalenza di sole al nord ovest e nelle isole maggiori. Si replica anche domani, infatti non avremo una rimonta decisa dell'alta pressione, così continueranno a raggiungerci delle perturbazioni atlantiche, in particolare tra la fine di domani e martedì il tempo sarà ancora instabile al centro nord per la perturbazione numero 4. Vediamo insieme le previsioni per domani, ancora una volta soprattutto nel pomeriggio si scateneranno rovesce temporali su quasi tutta la nostra penisola fatta eccezione per le isole maggiori. Grazie a tutti.